Oh eccoci, insomma, c'è teoricamente tanta carne al fuoco di mercato, perché c'è il Bologna su Salemakers, potrebbe esserci l'Udinese su Orighi, però vedete il mercato italiano è un mercato particolare, cioè, ora non dico nulla contro Bologna e Udinese, mancherebbe altro, sono due club dignitosissimi, virtuosi, di tradizione, attenti al bilancio, quindi nulla da dire. Però il mercato italiano è un mercato fatto più o meno così. A te piace un giocatore di una squadra italiana, a meno di rapporti e consuetudini particolari, il prezzo schizza alle stelle e tu devi andare poi all'estero. Quando invece c'è un giocatore tuo che serve, per tuo parlo delle grandi squadre, parlo di Milano, Juventus, Inter, parlo delle grandi squadre, c'è invece un giocatore tuo che interessa ad altri, non ci sono soldi, prestito, prestito, si contribuita all'ingaggio. Quindi non può funzionare così, non può funzionare così, perché alla fine il mercato si blocca e i soldi veri vanno all'estero. In Italia si fanno trattative e formule, le operazioni di mercato con i soldi si vanno a fare all'estero, perché in Italia è impossibile farlo. Però, ripeto, non riguarda Udinese e Bologna e insomma vedremo quello che accadrà. Ho parlato dell'Udinese su Beto, l'ho letto oggi nella rassegna stampa, Udinese su Origi, chiedo scusa perché l'Udinese ha ceduto Beto, e poi perché lo Sheffield ha preso già un altro attaccante alla Stonvilla, quindi sembra rimasta solo quella pista. Invece su Ballotto i Re mi sembra tutto sostanzialmente... cioè Olver del Brema fa una proposta con obbligo, oppure non si discute nemmeno l'argomento. Quindi, però anche Salemakers, Origi, per carità, Salemakers forse... ecco, la voce di Origi mi sembra molto sfumata, molto rarefatta. La voce su Salemakers forse qualche consistenza in più, però, ripeto, le società italiane fanno quel che fanno, anche perché il Bologna avrebbe bisogno di fare a sua volta qualcosa in uscita per andare su Salemakers. Quindi parlo prima del nostro mercato in uscita perché è fondamentale, ragazzi. È fondamentale. È fondamentale. In questi giorni, in queste ore, siamo a stretto giro, siamo alla volata finale. Abbiamo di mercato oggi, ma per noi oggi conta poco perché, ad esempio, per i tifosi del Milan che sognano Taremi, stasera gioca Taremi con la maglia del Porto contro il Rio Ave, nostra vecchia conoscenza, e quindi oggi il Porto non contamina la propria vigilia con una trattativa di mercato. Quindi per quanto ci riguarda abbiamo, sul mercato in uscita anche oggi, sul mercato in entrata abbiamo martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Quattro giorni, ragazzi. Teoricamente tanta carne al fuoco, ma tanta carne al fuoco non può essere cotta in quattro giorni tutta. Ben cotta, no? Non al sangue ben cotta. Quindi mi sembra tutto un po' appeso, però vediamo quello che eventualmente può svilupparsi oppure no. Ho letto di questa cosa carina del Bayern che vorrebbe Calulu come sostituto di Pavard per dare Pavard all'Inter in base alla trattativa importante che hanno fatto fino a questo momento Inter e Bayern. Che è carina come cosa, cioè noi dovremmo indebolirci per rafforzare i nostri rivali, perché se noi cediamo Calulu poi sostituto a noi chi lo trova? Caro Bayern. E quindi dovremmo mettere al caldo il Bayern che può dare Pavard all'Inter. Quindi l'Inter ha Pavard, il Bayern è Calulu e noi, la dico un po' volgare, ma sto sdrammatizzando evidentemente, non sto minimamente polemizzando, però capisco i tifosi del Milan evidentemente sui social, a meno che non si organizzi un bello scambio, sono anche connazionali, Calulu-Pavard, ma questa è una battuta che fanno i tifosi milanisti sui social, evidentemente Pavard la sua scelta, l'ha fatta, la trattativa fra Inter e Bayern sostanzialmente è fatta, solo che Tuchel vuole un sostituto. E Tuchel che ha battuto ieri in un derby bavarese l'Augusta, l'Augsburg, con la doppietta di Kane, non è tranquillo perché il suo Bayern è vero che ha vinto, ma ho letto le cronache della partita tedesche ed è un Bayern che ha vinto, ma è stato poco brillante, è stato poco brillante, il 2-0 al primo tempo è stato un po' episodico, quindi capisco che Tuchel sia un po' nervoso e non voglia liberarsi di Pavard, però ecco la costruzione che viene fatta, dai su Milan, dai Calulu al Bayern, che bisogna andare a Pavard la lettera, è carina, ammetto che è carina, è bella, mi piace, però ecco, oserei dire, mi permetterei di dire anche no, perché se c'è un settore nel quale abbiamo fatto pochissimo, a parte l'arrivo di Marco Pellegrino, nel finale di mercato abbiamo fatto pochissimo quello della difesa. Lasciatemi ricordare il numero 10, il numero 10 è la app a vostra disposizione, che trovate nella descrizione di questo video, il numero 10 vi consente di essere aggiornati su tutti questi rumor, su tutte queste descrizioni che stiamo parlando, scaricate l'app di numero 10, l'app di numero 10 la trovate nella descrizione di questo video, è a vostra disposizione, scaricate l'app di numero 10. Quindi, insomma, noi oggi ho visto vari discorsi sul Milan, appunto il giornale ci confermava che il Milan non ha fatto il mercato dell'algoritmo, ma ha fatto il mercato per rendersi più europeo, e ho visto poi una riflessione molto interessante di Paolo Condò, alla quale, Paolo Condò è un signore con la S maiuscola del giornalismo, e qui nel mio piccolo sono onorato di averci già pensato ieri, di averlo già inserito ieri, con i colleghi, con Luca Brivio, con tutti i colleghi nella scaletta dell'inferno. Cioè, la cosa fondamentale del nostro mercato di quest'anno, al di là dei numeri degli arrivi, di nove arrivi, sono stati i tempi. Cioè, secondo me è stato un tesoro inestimabile aver consentito a Stefano Pioli di poter disporre di Loftus-Chick, di Pulisic e di Reinders già prima della partenza per la turniera degli Stati Uniti. Questa è stata la cosa fondamentale. Quindi non i milioni del mercato, non i numeri del mercato, ma i tempi del mercato, fondamentali. Taremi. Cosa volete che vi dica, ragazzi? Sergio Conseisau potrebbe fare su Taremi la stessa questione che tu che l'ha fatto su Pavard. Cioè, mi va via Taremi con chi lo sostituiamo, quindi il Porto dovrebbe avere bisogno di trovare un sostituto. Poi, ripeto, anche oggi i quotidiani italiani dicono che a 20-25 milioni non si fa. I quotidiani italiani dicono che il Milan potrebbe arrivare a 15. Io invito tutti alla prudenza, io lo chiarisco alla noia. Non è che non voglio che si faccia Taremi. Taremi, guardate, c'ho il brivido di mercato su Taremi. Cioè, Taremi sarebbe per noi una grandissima operazione che servirebbe a valutare, a dare corso, a valorizzare tutto il resto del nostro mercato. È la cosa giusta. Ma, secondo me, il Milan a 15, che dice, eh vabbè, se uno di voi mi ha scritto, eh vabbè, si tratta di sforare, facciamo sto sforzo, noi abbiamo già sforato. Si tratterebbe di risforare, non di sforare. Secondo me il Milan a 15 si può arrivare con i bonus. E quindi lì, ragazzi, deve essere la sensibilità del porto a capire tengo questo ragazzo che ha voglia di andare via e poi lo perdo a zero, oppure non faccio un favore al Milan, però prendo dei soldi e non mi tengo in casa un giocatore che in questo momento sta già pensando a un'altra squadra, probabilmente azzardo, anche se Taremmi è un serio professionista e questa sera darà tutto per il porto, nell'aparita del porto con Rio Aleman, crede altro. Quindi questo è un po' il tema. Il tema non è di soldi, è un tema di situazioni, di atmosfere, di umori, di scelte, di prospettive. Insomma, non è una cosa semplice quella di Taremmi. Per cui vi confermo quello che vi ho detto ieri. A domani.